Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di mercoledì 23 maggio, una giornata quella di oggi contrassegnata da alcune nubi all'inizio questa mattina, ma che poi sta andando decisamente verso il bel tempo, come del resto suggerivano le previsioni. Ora abbiamo un bel sole, siamo a cavallo del mezzogiorno, un bel sole qui a Torino, temperature in netta risalita, infatti per oggi sono previsti circa 27 gradi nel corso del pomeriggio, una situazione di sole misto a nubi che si protrarrà ancora per qualche ora, anche perché nella giornata di domani è previsto invece un cielo decisamente sereno con temperature, come detto, ancora in rialzo. Diamo un'occhiata adesso a qualche notizia di viabilità, per fortuna non sono molte le segnalazioni da fare, per cui ne approfittiamo anche per segnalarvi alcuni eventi che avranno ovviamente alcuni impatti sulla viabilità, da oggi fino al 5 giugno in città ci sarà il Torino Smart City Festival dedicato alla sostenibilità e allo sviluppo, sono molti gli incontri per lo più all'interno del centro cittadino. Vi segnaliamo poi dalle 14 di oggi fino a circa metà del pomeriggio al Parco del Valentino, ci sarà la 17esima stra Valentino, questa sera poi dalle 21.30 circa alla Basilica di Maria Ausiliatrice ci sarà una veglia di preghiera con un forte afflusso di persone per la festa di Maria Ausiliatrice che si celebrerà nella giornata di domani. Per oggi sono previsti dei lavori con conseguenze sul traffico in via Papacino e infine chiudiamo con i controlli della velocità di quest'oggi, gli autovelox che trovate sui corsi Grosseto, Moncalieri, Turati, Unione Sovietica e in Audi, Casale e in Lungostura, Lazio. Diamo un'occhiata adesso alle notizie che trovate sulla home page del sito della città con un particolare interesse verso la Biennale per la Legalità perché quest'oggi c'è il grande evento conclusivo, una Biennale che ha caratterizzato gli ultimi 4-5 giorni qui a Torino con una serie di eventi e di incontri, è cominciata nel sabato 19 con la presentazione del calendario della legalità che è stato allestito in Piazza San Carlo, una piazza San Carlo e qui veniamo alla notizia in sé vera e propria, è quella che sarà il teatro della festa di chiusura di questa sera, alle 21 ci sarà il concerto di Franco Battiato in collegamento diretto tra Torino e Palermo, un concerto di chiusura appunto per la Biennale Legalità che vedrà anche partecipare l'orchestra di Porta Palazzo. Saranno molti gli ospiti della serata, ospiti ovviamente a tema, il calendario della legalità sarà presentato proprio nel corso della serata e continuerà a rimanere in Piazza San Carlo fino al 27 di maggio. Ultima notizia che vi segnaliamo dalla nostra home page è quella relativa ai biglietti omaggio con Torino Giovani perché giovedì, quindi nella giornata di domani alle ore 15 saranno messi in palio due biglietti per il concerto dei Marlene Kunz che si terrà nella giornata di venerdì all'Hiroshima Mon Amour. Vi ricordo anche che invece quest'oggi sul Facebook di Torino Giovani ci saranno i biglietti per Blitz e The Ambassador direttamente disponibili come sapete sempre alle ore 15. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per questo pomeriggio e per la serata. Allora partiamo dal pomeriggio dalle 18, in particolare la presentazione di un libro al circolo dei lettori, si tratta di Assalto al cielo, la classe operaia va sui tetti, un libro reportage edito da Fandango e scritto da Michela Giacchetta che sarà presente all'incontro, racconta questo reportage svolto negli ultimi mesi seguendo cassa integrati e persone licenziate o in mobilità che hanno dato l'assalto ai tetti delle città per mostrare il loro disappunto, per far conoscere la loro storia. Alle 18 un altro appuntamento relativo al cinema questa volta nella sala 3 del Cinema Massimo, nell'ambito della rassegna Il Fiume della Storia, una retrospettiva dedicata a Yag Zankè, verrà proiettato Platform, Zantai il titolo originale, un film del 2000, ovviamente qui proposto in versione originale, sottotitolata in italiano. E infine chiudiamo con la musica e in particolare con l'opera perché al regio questa sera alle 20 ci sarà la norma di Vincenzo Bellini proposta per la direzione di Michele Mariotti e la regia di Alberto Fassini, un allestimento del Teatro Reggio in comproduzione con opera scene di Roma. L'inizio è previsto come detto alle ore 20, sempre nell'ambito della musica ovviamente, ma ne abbiamo già parlato prima, il concerto di Franco Battiato questa sera alle 21 in Piazza San Carlo. Bene, tutto per quest'oggi, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale, per voi ovviamente l'augurio di una buona serata, ci vediamo domani alle 12 con la prossima edizione di Torino World News.